Iniziamo l'interrogazione Mi parli del rinascimento Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono Fabij e oggi siamo su Pelati Simulator Stuni, ma cosa sta dicendo? Divertiti a perculare il tuo professore pelato E ridi delle sue disgrazie Ma cosa sta facendo Stuni? Guarda che questo non è un gameplay eh Ignora le sue banali domande Adesso mi sta facendo incazzare E ridi di gusto sentendo le sue urla incontrollate Lei è espulso dalla mia elezione Ma tanto a fine anno vi promuovono tutti